Voto favorevole dell'Aula alla istituzione di una commissione di inchiesta regionale per la discarica di bussi. È un risultato molto positivo a cui noi come centrosinistra tenevamo tanto. Il presidente Lenini si è fatto portatore di questa richiesta ed è stata votata da tutta l'Aula con l'assenzione del Movimento 5 Stelle. Riteniamo che sia una cosa molto importante perché ci permetterà di lavorare sei mesi assiduamente su alcune cose che sono rimaste risolte a partire dalla bonifica che sebbene finanziata con circa 44 milioni di euro e con un milione e mezzo di euro del Consiglio regionale in realtà non è ancora partita dopo un trascorso di ormai 15 mesi. Così come ci sono tante domande che sono rimaste risolte, il perché di una mancanza di uno studio epidemiologico di tutte le persone, circa 700 mila utenze che sono a valle della discarica Tremonti di bussi e che riguardano principalmente la città di Pescara ma anche Chieti e altri comuni. Insomma questa è come altre domande che riguardano per esempio il contenzioso attualmente aperto tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione, la Presidenza del Consiglio e bussi con la Edison, tra la Edison e la Solvei e ancora tra la Edison per quanto riguarda il Consiglio di Stato con la provincia di Pescara in merito all'individuazione delle persone responsabili di questi danni. Inoltre c'è la richiesta, ci sarà la possibilità di richiedere anche in questa Commissione non solo di far partire il prima possibile la bonifica sul SIN, cioè il sito di interesse nazionale ma anche di incentivare un pochino le risorse a disposizione se è vero che nella causa civile la Regione Abruzzo e il Ministero hanno chiesto oltre un miliardo di euro alla Edison e solo 50 mila euro sono espondi e stanziati nel 2009 grazie al lavoro anche del Presidente Lenini per questa bonifica. Insomma sono tantissimi gli aspetti che devono essere ancora valutati e tra questi un aspetto che ci riguarda anche in queste ore, in questi momenti, in questi giorni e che riguarda il capping, cioè quello che è stato realizzato dal Commissario Goio, l'effettuale funzionamento ancora, oltre che la manutenzione perché noi sappiamo che la Solvei ha interrotto la manutenzione nel 2018 così come il recupero dei liquidi. Voglio precisare che riguarda un sito dove c'è un terzo dell'acqua del nostro Abruzzo superficiale come il fiume Pescara, il fiume Tirino che è affluente del primo e anche diciamo di sottosuolo. Quindi insomma è un lavoro veramente che ci attende, attende i consiglieri regionali, in particolare i consiglieri regionali della provincia di Pescara che devono delle risposte ad un territorio veramente grande. La mezz'oretta